Potente appara ragazzi, qua sono Gimigato, oggi sono da solo e sono qui a presentarci un nuovo video che ragazzi non è un faccobling Perché ormai ho deciso di cambiare strada proprio, i faccobling non fanno per me, magari ne farò altri per il nuovo team of the season anche se la vedo stradura a trovare qualcosa Ma sono qui, o meglio ben si, sono qui a presentarvi questo mio nuovo wager match Wager match di quale giocatori? Oggi sto qui a presentarvi il match a scommessa di Mandzukic, team of the season, che ho utilizzato per due partite e in queste due partite mi ha fatto tre gol Quindi non mi sembra affatto male, però contro chi sto facendo questo wager match, lo sto facendo contro un iscritto che è anche uno degli admin del sito Futitalia se non mi sbaglio, di cui è anche admin, Magico Orgasmic, che saluto Comunque va andare senza giovaniamo, prima di iniziare volevo ricordare di passare la FIFA con i testi se siete interessati a comprare i crediti di FIFA E andiamo ad invitare il nostro sfidante È arrivato, oh mio dio Ragazzi ecco, non so se ne ho detto, lui è l'armi, si chiama Black Boom e ci sta anche sentendo Quindi lo salutiamo e andiamo a chiudere il Kinect E ragazzi, possiamo andiamo Andiamo a vedere, ma che maglia illegale che ho Questo è ancora un po' meglio E andiamo a schiacciare, gioca partita Io direi che si può martire l'arga, sai però tanto Oh porca, mi sei l'arga Oh Cristo Palo Sì E andiamo così E andiamo così Oddio Muller Thomas Thomas Miller 1,0 E 14,6 Guardate un po' Ma di solo Non so se mi vedete nemmeno Ma ci portiamo in vantaggio Daie E tunze, tunze Daie, daie Vede qualcuno in mezzo Spiovente Non si capisce niente Witzel Cacinando De Bruyne Kevin Per Dante Oddio Mi sta la boccaccio Bocaccio Oh Cristoforo Colombo Grande Oh Non si capisce di niente Madonna beata Oh Cristoforo Mi ha fregato alla grande La mette in mezzo Un altro palo Sì Sì E andiamo Mamma mia Danny è andato Vai Danny Vai Danny Vai Danny Danny I numeri No Che tiro di merda No Mannaggia Ho paura Ho paura Ho ufficialmente paura Bello Madonna L'ha sfiorato Ha sfiorato l'Euro goal Witzel Esemplare Segnamelo Non me lo fa Io devo passarla in mezzo Dio santo Sta cosa Sì arbitro Minchia È la quarta volta Boom Madonna mia Quasi Ci siamo qua Oh dobbiamo chiuderla Manzuchic Manzuchic Chiudimela Oh mio dio Come fa non essere rigore Signor arbitro Thomas 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 Oh Ma no Ma non può non essere fallo Se mi segna adesso sclero Io No No Dai Ma che Ma come fa a tirare così Dai che però forse è finita Dai Sì Sì E abbiamo vinto E abbiamo vinto E andiamo E abbiamo vinto Manzuch Buonissimo Buonissimo Finalmente Siamo tornati a vincere I wager match Perché l'ultimo Se vi ricordate Avevo perso Stato una partita abbastanza Voluta dal punto di vista Del numero di gol Ma io ero stratetto ragazzi Eh sì Eh sì Quindi Ci sentiamo Tra pochissimo Questo qua ragazzi Se hai visto il testo Il mio video Ti importa Dai Ti importa Allora Buonissimo 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 Ragazzi Manzuch Dove sei Dove sei E entra Nel Io Yes Manzuch Di sviluppione E andiamo così Comunque ragazzi Se per i miei video Vi siete piaciuti Vi esorto A lasciare un bel mi piace Fatemi sapere Se ci volete Il pinpale O meglio Oppure Il bicchiere Il pinpale Appunto Vorreste giocatore Di questo nuovo Team of the season E detto questo Io vi saluto Ringrazio ancora L'armi di The Foot Italia Per appunto Aver giocato con me E appunto Avermi dato un giocatore Che come sempre Come sempre dico Non è da tutti Rispettare appunto le regole Comunque dato questo Vi risaluto E vi dico potente La palla Sendo il prossimo video Buon là